Se avete dolore in certe zone delle gambe, sotto i glutei, a metà coscia, nell'incavo del ginocchio, sul polpaccio, dietro sui tendini d'achille, provate questa soluzione. Mettete il cerotto marrone sulla gamba sinistra e quello bianco sulla gamba destra. Anche qui staccate sempre solo mezzo adesivo e valutate se funziona. Se il dolore invece è su una sola delle gambe, guardate il video in cui ne parlo. A presto.